più ci penso e più non ci credo ragazzi ma al momento il sassuolo sta vincendo 1 a 0 contro l'inter un sassuolo che se dovesse trovare la vittoria ragazzi vola 29 punti e riapre tutto perché il sassuolo sembrava spacciato dopo la salernitana ma si riapre tutto perché l'udinese a 29 poi ci sono tante squadre al 31 e l'altra salvezza ancora aperta ma quello che ancora non quello che ancora mi fa strano è che di questi 29 punti momentaneamente perché la partita ancora non è finita mancano 4 minuti più recupero ma di questi 29 punti se li ha fatti con l'inter se pensiamo alla vittoria contro la juventus all'andata 9 li ha fatti con juve inter sassuolo praticamente se dovesse mai 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 fare il miracolo di salvarsi quest'anno deve dire grazie all'inter e voi direte ale ma l'inter non gioca più nulla capirai cioè ci può anche stare certo ma l'andata l'inter comunque ci perse lo stesso era da san siro e lì era appena inizio campionato quindi non vuol dire poi l'inter ha vinto anche in casa col torino l'inter è una squadra che vuole vincere sempre nonostante abbia già festeggiato uno scudetto io da come stanno anche spingendo no adesso l'inter che sassuolo entra in cea per difendere questo 1 a 0 l'inter non la vuole perdere questa partita la sta per riro ma la vuole perdere e mi fa strano che veramente di questi 29 punti 6 li fa con l'inter c'è una squadra che quest'anno veramente ha avuto tantissime difficoltà riesce a fare 6 punti su 6 al momento con l'inter la squadra più forte d'italia certo l'inter ripeto oggi fa anche tanto turn over è perché oggi comunque turam non ha neanche giocato di marco non ha giocato a cerbi non ha giocato barella di parte della panchina c'è una luogo non ha giocato che oggi lì ti ha fatto vendita tutto turnover e anche i cambi poi negativi titolarissimi c'è a parte barella messa al centrocampo poi ti butta dentro gente come quadrado che non si vedeva da chissà quanto poi c'è classe ne ha messo dentro più che non insomma giustamente in zaghi sta lasciando spazio a quelli che comunque hanno giocato meno ci mancherebbe altro sa solo che in realtà parte bene con con il tiro di coltivo del giovane che adesso non ricordo come si chiama odero sul primo palo fa una buona parata perché quella palla di panni ecco di panni perché quella palla di fa comunque passa in mezzo a due e odero comunque sul palo la vede all'ultimo riesce comunque a fare una buona parata e poi riva il gol su un errore di dunfriss ragazzi perché diciamo che doig riesce completamente a strappare la palla dunfriss dai piedi mette questa palla al centro per l'oriente che col piattone trova un angolo alto sotto la traversa ottimo e odero lì non può farci niente e lì sta solo avanti su 1 a 0 e poi l'inter ha avuto sicuramente le azioni per poterla pareggiare questa partita ad esempio il tiro di sanchez centrale parto da consigli se vogliamo la occasione importantissima di dunfriss sull'imbucata di aslani dove poi dunfriss stoppia un po' quel tiro quella palla esce fuori esce fuori di poco anche quella palla messa dentro allo stesso dunfriss dove l'autorio martinez in spaccata e scivata col destro prova a girarle in porta ma non ci riesce lì forse anche un po staccato da frattesi e anzi nei piani primo tempo l'inter ha trovato anche il goco altro martinez no pala carlos augusto tiro deviato da tiro di vato da dojan e la palla di aver solo martinez che come la pace della pace d'aria trova il gol di luna 1 viene però annullato per fuorigioco fuorigioco millimetrico ma che c'era infatti ci ha messo un po la gol il bar a vedere il fuorigioco segno automatico ma comunque questo fuorigioco c'è e quindi con il rotto martinez viene viene annullato secondo tempo il sassuolo ha provato a ripartire a provare a fare qualcosina l'inter ha avuto un po sesso palla predominante l'inter sta continuando a raccare cioè nel senso il sassuolo sta difendendo con le unghie con i denti stanno spremendo tutte le ultime energie per portare saccata questi tre punti fondamentali come loro ragazzi sarebbero fondamentali veramente per il sassuolo e l'inter invece sta assediando no ci ha provato quadrato prima che ha messo una palla bella in mezzo per arnautovic viene sporcata la cumbulla lo stesso altro martinez ha avuto due occasioni anche se poi alla fine tutto è sempre stato annullato per fuorigioco da una posizione di partenza di arnautovic l'inter adesso con buchena sulla fascia spinge come con quadrato hanno gente che assaltano l'uomo e stanno creando delle difficoltà un pareggio direte con l'inter da buttare no perché la prima è la prima il campionato ci mancherebbe altro ma per come messo il sassuolo ragazzi il pareggio si era poco perché comunque parliamoci chiaro vai a vai a 27 27 se ancora lontano di 31 punti semplicità porti a casa per questo miracolo ma 29 ripeto tutto tutto è aperto questo sassuolo ragazzi non me l'aspettavo sta vittoria onestamente al momento non me l'aspettavo però ripeto l'inter è in ciabatte tra virgolette anche se ripeto una squadra come l'inter sono sicuro sono sicuro che comunque non vuole mai perdere ci ha dimostrato comunque col torino al torino la scorsa giornata però ci può stare che si fai turn over sai c'è una logo turam gente importante di marco comunque per quanto è il sassuolo che non è meno se la passa bene ti può comunque mettere in difficoltà tutti obiettivi dei centrati il sassuolo sta ancora lottando e ci sta che comunque loro diano qualche quel qualcosina in più nel frattempo qua non c'è nulla è rimessa dal fondo per il sassuolo 92 esimo ragazzi 22 minuti di recupero e questa vita qua finisce qui e ripeto io più ci penso più non ci credo veramente veramente più non ci penso che non ci credo ripeto l'inter sei punti al sassuolo tranne del ritorno nuove comunque con la juventus cioè 9 punti su 29 ragazzi cioè significa che comunque sassuolo veramente poteva salvarsi se trovi punti con se tu fai sei punti con la campione d'italia in carica veramente questo cambiato qua per carità ha c'è messo anche del tuo la senza liberarli sicuramente si è fatto a sentire in modo chiaramente pesante però potevi comunque fare meglio lo stesso al di là di berardi ai giocatori per poter far meglio no pinamonti torsberg che quest'anno faccio un'ottima stagione matteo serriche oggi erlici monumentale c'è oggi erlici ha fatto una partita clamoroso solamente perché non lo schietto a contacalcio proprio con l'inter che cazzo ha detto a fare erlici invia sempre 5 e mezzo 5 con l'intero la scimpanta invece no partita monumentale oggi comunque sono applicati tutti oggi oggi sono applicati e comunque con sacrificio si portano a casa questa vittoria magari non meritata per le occasioni create perché l'inter ha spinto tanto e poteva fare qualche gol mi sono solo approfittato di quelle due o tre occasioni che sono capitate e si è portata a casa al momento la partita ma quanta venta secondi abbiamo un po 30 secondi e vediamo come finisce la partita però vabbè ripeto ragazzi mi fa stanno vedere l'inter perdono ancora col sassuolo poi non cambia nulla perché il campionato per loro è finito però non ci avrei mai creduto io sinceramente hanno sconfitto dell'inter è ancora ancora è finito in questo momento ragazzi il sassuolo batte l'inter 1 a 0 il sassuolo può tornare a sperare perché va 29 punti 29 punti a pari con l'udinese che l'altra che sta procedendo ma tipo frosinone empoli è un'altra squadra forse verona sono tutte 31 due punti a tre giorni dalla fine considerando anche che però frosinone verona e rimane ancora giocare e un po di è quindi bisogna dire che cazzo succede poi con domani con le altre sfide lunedì anche ragazzi dire che video può finire qua se vi è piaciuto lasciato un bel like mi raccomando commentate sui commenti e fate sapere voi cosa spesa appunto di questa quattro sassuolo e inter tipo vostro che sopra i commenti che sono curioso e su ragazzi anche se non c'è l'iscrizione al canale che fornita non costa nulla e per il suo supporto basta clicci su iscriviti e siete iscriviti al canale sul cuore condivido anche il video con i vostri amici anche loro e anche la campione notifiche così non perdete se usciranno domani post partita di milan genua e poi saremo in live la sera per roma juventus con altrettanto post partita quindi la campagna inattiva è importante anche quella e in destituzione anche il link del bar così channel e link anche degli altri social quindi solitamente seguire su tiktok facebook instagram gruppo telegrave possiamo messaggiare insieme parla di calcio e ci sono tutti i link in descrizione quindi mi raccomando passata anche da lì qui dava che è tutto mamma mia non ci avrei mai creduto ma sta solo vince ancora con l'inter bella